La burocrazia è un oceano difficile in cui orientarsi, ma a volte può essere di vitale importanza. Per questo motivo, nell'Ateneo di Tor Vergata, si concentra da tempo una rete di professionisti che vuole aiutare pubblici, funzionari e operatori economici ad assimilare le norme contenute nel codice dei contratti pubblici. Quali sono gli obiettivi e le finalità del seminario? Sono quelli di fornire agli operatori del settore, quindi a dirigenti e funzionari amministrativi, una prima analisi di carattere generale del nuovo regolamento di esecuzione al codice dei contratti pubblici. Perché ha deciso di partecipare a questo seminario? A noi interessa molto il codice degli appalti, io sono direttore acquisti del Poligrafico dello Stato e quindi ci interessa il regolamento di attuazione e in questo corso si dovrebbero approfondire alcuni dei temi importanti per noi sugli affidamenti, sugli appalti, sui lavori, servizi e forniture come previsto dal codice. È un seminario che riguarda un argomento di grande attualità per le amministrazioni pubbliche, il regolamento di attuazione che doveva uscire da cinque anni a questa parte e quindi adesso, anche se siamo proprio all'inizio delle prime informazioni disponibili, io come altri operatori del settore abbiamo ritenuto opportuno prendere parte all'iniziativa universitaria, cioè di livello appunto universitario. Un quadro normativo complesso, quello riguardante gli appalti, in cui risulta difficile barcamenarsi, ma che è necessario conoscere per alcuni agenti. Perché è fondamentale conoscere questa normativa e rispettarla? Perché riguarda la vita di tutte le amministrazioni pubbliche. Quotidianamente sono chiamati tutti i funzionari e i dirigenti amministrativi a applicare queste norme che peraltro sono fondamentali non solo per la realizzazione di lavori pubblici o l'approvvigionamento di beni o servizi per l'amministrazione, ma anche per realizzare un'effettiva concorrenza. Effettivamente il regolamento è estremamente capillare e ha anche alcuni aspetti normativi contrastanti. Ci sono competenze tra Stato e Regione che ancora non sono ben chiarite. Un suggerimento che si sente di dare a coloro che comunque si accingono a svolgere attività che hanno a che fare con questa normativa? Avere molta, molta pazienza nello studio delle norme sia del codice che del regolamento, perché si tratta in realtà di una giungla normativa. Tante leggi che a occhio del cittadino comune potrebbero sembrare inutili, soprattutto a causa degli scandali che hanno portato alla luce i numerosi casi di corruzione e malfunzionamento del sistema. Il problema è un problema di etica pubblica. Se non cambiamo l'etica pubblica in questo Paese possiamo anche approvare le norme migliori che però poi verranno inevitabilmente sempre luse.